volete dormire in un modo davvero naturale allora vi presento culcita è il nostro materasso ecologico a filiera corta lo realizziamo noi completamente a mano con lana italiana e una fodera in cotone biologico la nostra esperienza artigianale e nient'altro dura tutta una vita e quando ha finito il suo servizio torna nell'ecosistema con un impatto praticamente nullo venite a provarlo grazie a tutti